Segui La Sette anche su Instagram, La Sette ovunque con te. Quindi, insomma, no? Che ci sia stata un po' di discussione. Poi ho detto questo, guardi, io lo trovo ancora più incredibile perché se il Copa si vada a verificare o vedere gli spostamenti di un segretario di partito come Matteo Salvini nelle varie ambasciate. E questo riguarda quell'altra vicenda. Di fronte a queste situazioni. Questo è il mio commento. L'annunciato, poi vedremo, viaggio a Mosca. Fra due anni, che pensate?